Musica Le 7.30 di giovedì 19 novembre, benvenuti a Buongiorno Regione. In anteprima oggi vi portiamo a scoprire una splendida mostra legata ai robot, i robot che hanno animato le fantasie di scrittori e del cinema, ma in realtà sono una gran bella realtà legata soprattutto all'esplorazione, all'industria, alla medicina, ma anche alle faccende domestiche, possibilmente. Andiamo da Maria Laura Massa, collegata in diretta da Città della Scienza, Bagnoli, Napoli. Buongiorno, buongiorno da Città della Scienza, Futuro Remoto, 23esima edizione Il Futuro è qui, questa edizione infatti dedicata, come dicevi tu Adriano, ai robot, questi esseri artificiali sempre più intelligenti, che popolano sempre più numerosi il nostro mondo, la nostra vita quotidiana. State vedendo l'anteprima, il prologo della mostra dedicata ai robot primordiali, perché da sempre l'uomo, sin dall'inizio, ha cercato di riprodurre il suo doppio, dunque un essere che fosse in grado di svolgere per lui il proprio lavoro. Vedete, questi sono i robot primordiali, ma la mostra cerca di indagare quelli che sono i scenari futuri della robotica, dell'intelligenza artificiale e della cibernetica. Insomma, che cosa ne sarà? Quale futuro si prefigura? Un futuro in cui i robot saranno sempre più numerosi? Allora, una domanda che il cinema e la letteratura da sempre si pongono, dai risvolti anche etici, è la macchina, ovvero la creatura. Un giorno potrà superare il suo creatore? Torneremo tra poco a parlarne. Ma adesso torniamo invece a occuparci di robot, perché Futuro Remoto li mette in mostra e ci racconta molto di più su quanto sta accadendo nella scienza contemporanea, soprattutto sul futuro. Futuro Remoto, in collegamento diretto, Maria Laura Massa. Mi chiamo Robote Spian, posso recitare come un autore di cinema? Allora facci un po' vedere che sta a fare. Allora di nuovo buongiorno dalla città della scienza, Fiorella. Siamo abituati a dei robot, sarà la nostra guida a Fiorella in questo breve viaggio. Siamo abituati al robot che sostituisce l'uomo nel lavoro, no? Già la parola Roboda, Rabota, lo slavo Rabota significa lavoro. Invece questo canta? Canta, recita e sa fare anche altro. In realtà appunto non si tratta di un robot al servizio dell'uomo, ma piuttosto un robot che è un po' a fianco dell'uomo, un robot con cui interagire, giocare, divertirsi e anche apprendere. Quindi siamo tra le tante sfere di applicazione della robotica, della sfera ludica e questa è una delle nuove frontiere, no? Certo, assolutamente nuovissime e qui possiamo anche osservare un braccio meccanico che è appunto normalmente impiegato nelle fabbriche, nelle catene di montaggio e che per noi invece realizza degli splendidi disegni. Andiamo a vedere Pino, il nostro operatore, andiamo a vedere da vicino. Questo è comunque un robot, eh? Sì, assolutamente è un robot che appunto... Che cosa che distingue? Un robot da una macchina, una macchina del caffè, la nostra automobile? La macchina del caffè chiaramente fa quello che gli diciamo di fare, quindi la nostra automobile è svolta a destra perché chiaramente giriamo lo sterzo. Nel caso del robot invece è una macchina che è in grado di fare delle connessioni, delle connessioni tra la percezione dell'ambiente esterno e l'azione poi che è portato a compiere, insomma, quindi l'obiettivo. Ecco, Fiorella, a proposito andiamo a scoprire un'altra creatura veramente incredibile, un umanoide, guardate, si chiama iCubb, all'aspetto di un bambino. Loro sono i custodi di questa piccola creatura, sono i ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Qual è la peculiarità, Fiorella, di questo umanoide? Eccolo qui, iCubb è un cucciolo, un cucciolo di robot che come tale riesce a giocare, diciamo, con la pallina, riesce in qualche modo a giurarla. Perché lui ha una telecamera negli occhi, per cui ci segue anche con lo sguardo. Ci segue e cerca di afferrarle. Però non la può ancora afferrare. È un cucciolo, sì, in realtà è un progetto molto giovane, però ha degli obiettivi veramente alti. Ecco, perché in evoluzione questo progetto a che cosa servirà iCubb? Allora, servirà, diciamo, a comprendere appunto l'apprendimento e quelli che sono i meccanismi alla base dell'apprendimento. Infatti il nostro cucciolo, proprio come un bambino dell'età di 2-3 anni, avrà la capacità di percepire l'ambiente esterno. Quindi avrà capacità di sentire, di vedere, avrà la capacità di comprendere il proprio corpo nello spazio. E al contempo avrà la capacità di, in qualche modo, apprendere appunto quanto... Non si muove forse perché c'è la luce, quindi è un po' paralizzato dalla luce, credo. Ci dicono ai ricercatori che è così, ma vi assicuro l'ho visto in funzione e si muove normalmente. Ecco, senza luce va. E quindi, perché ha questo aspetto di bambino? È un vezzo? Allora, no, non è soltanto puramente estetico, ma appunto è funzionale. I neuroscienziati insegnano che in realtà non ci può essere apprendimento, non ci può essere conoscenza senza un corpo. E in particolare tra le varie forme, tra i vari possibili corpi, quello dell'uomo è quello che ha, diciamo, maggiormente determinato la capacità dell'uomo di apprendere. Grazie. E a proposito di applicazioni in campo medico, vi voglio far conoscere questa deliziosa foca. Che cosa fa? Questa foca sembra un peluche in realtà? No, in realtà non è un peluche perché è appunto una foca robotica che è stata creata in Giappone dal professor Takanori Shibata e qui in Italia è stata portata in collaborazione con la professoressa Patrizia Marti dell'Università degli Studi di Sile. A che cosa serve? A curare chi? In particolare serve per pazienti affetti da patologie di Alzheimer o anche pazienti affetti da disturbi cognitivi, disturbi motori, disturbi sensoriali. Perché in particolare sotto questo tipo di pelosoffice ci sono una serie di sensori, sensori di luce, sensori di movimento che consentono quindi al paro di emettere determinati tipi di cose. Grazie. Benissimo, grazie. Io vi voglio far conoscere adesso la star di Futuro Remoto, il personaggio ormai noto in tutto il mondo che stasera taglierà il nastro dell'inaugurazione alle 19.30, come vi dicevo poi domani la mostra fino all'8 dicembre è aperta al pubblico, si chiama Asimo, è l'umanoide più sofisticato che esista al momento sul pianeta, non possiamo averlo qui perché come tutte le star arriverà all'ultimo minuto, andiamolo a conoscere con Renato De Manuele. E' veloce, efficiente, gentile, è in grado di ballare, salire le scale, trasportare oggetti e poi lasciarli andare, come questo vassoio, con delicatezza e precisione, grazie a speciali sensori collocati nei polsi. E' l'ultima versione di Asimo, il robot umanoide, realizzato dai maghi giapponesi della Honda, per la prima volta a Napoli, nell'ambito dell'edizione 2009 di Futuro Remoto dedicata agli androidi. Ci vorranno all'incirca 15 anni perché Asimo raggiunga l'autonomia necessaria a renderlo prezioso in tutta una serie di situazioni, in casa, in azienda, ma anche per rendere più agevole la vita dei disabili. Un testimonial del livello raggiunto dalla ricerca mondiale, un fatto di robotica umanoide e della divulgazione scientifica. Allora, credo che siamo di nuovo in diretta, che non sento più, sono col professor siciliano che tra l'altro è anche presidente della società mondiale, di robotica. Sembrano giocattoli, ma in realtà c'è un lavoro incredibile alle spalle di dedizione, di impegno di ricercatori di tutto il mondo. Assolutamente, per consentire a questi oggetti, che sono i robot industriali, di interagire in condizioni di sicurezza con gli esseri umani, per avere dei robot come Paro, come E-Cab, che possono giocare con i bambini, con gli anziani, con i pazienti, bisogna affrontare questo discorso della sicurezza. Avere un robot che possa essere sicuro è una scommessa. Nel nostro laboratorio alla Facoltà di Ingegneria del Federico II, in Prisma Lab, ci occupiamo di questo aspetto, di consentire al robot di sentire l'ambiente esterno e di fare in modo di reagire, in modo da non creare reazioni improvvise nei bambini, negli esseri umani che devono interagire con questo robot. Professore, qual è il contributo e il peso della comunità scientifica napoletana e campana a livello internazionale? Ma da italiano e da napoletano tengo a dire che l'Italia riveste un ruolo di protagonista all'interno della comunità di ricerca, sia per quanto riguarda i laboratori che per quanto riguarda le aziende a supporto della ricerca. Benissimo, grazie professore, devo interrompere. In chiusura andiamo dal direttore della Fondazione IDIS Città della Scienza, Luigi Ammodì. Allora ancora una volta la scienza qui si tocca con mano ed è a portata di tutti. Certo, questa è la tradizione di Futuro Remoto che giunge quest'anno la ventitresima edizione e quest'anno anche la fantascienza si tocca forse più che in altri anni anche attraverso i tanti altri eventi che Futuro Remoto offre quest'anno fino all'8 dicembre laboratori, rassegna cinematografica, incontri con scienziati, conferenze quindi consiglio a tutti di andare a vedere tutte le informazioni sul nostro sito web per avvivere con noi. Benissimo, appuntamento al pubblico domattina alle 9 fino all'8 dicembre, vi restituisco la linea. Non ci resta altro che darvi appuntamento domani mattina alle 7.30, buona giornata.